Eccoci qua amici ancora insieme tra queste nuove immagini a pedale su una salita fra le sue più belle che salgono dalla vallata di Mezzane. Siamo sul tratto di mezzo del salita di tenuta Sant'Antonio, a breve cominceremo la parte serrata. È una salita piacevole dove si respirano già i profumi della primavera, i fiori e tutto il verde che questa vallata può offrire. Olivi e quant'altro fanno da scenario a questi posti che non possono far altro che regalare serenità a chi li passa. È una salita comunque non dura che sale nel tratto asfaltato con la sua pendenza più a ditta. È una salita da ritmo invernale sul fondo prevalentemente battuto e serrato. Oggi tappa un po' a corto di tempi, adesso ci imponiamo di scollinare facendo al contrario lo sterrato del b-bike sulla dorsale della via cara per poi scendere velocemente a suale. ecco a 100 metri la fine salita del primo tratto. Siamo venuti su bene eh. sperando che mi devo portare a prego anche tutti voi non è proprio una passeggiata. Ecco lo scollinamento. Qui interrompiamo le immagini perché comincia il tratto in discesa un po' da guidare. Vi do il mio più grosso un po' da guidare. Vi do il mio più grosso